Salve, sono Chiacchiere Emanuele e insegno storia, geografia e altre materie anche alla scuola italiana di Budapest. La nostra sezione italiana, siamo all'interno di una scuola pubblica ungherese, il scopo della nostra scuola è quello di insegnare la lingua del bel paese e la cultura dell'Italia ai giovani, giovanissimi. Quindi dalla prima elementare fino alla terza media. Perché è importante insegnare la lingua italiana, la cultura italiana, la storia, la geografia italiana all'estero e quindi a Budapest? Perché c'è una grande comunità di italiani a Budapest e quindi noi diamo proprio questo servizio alle famiglie italiane residenti. Dunque il Caleidoscopio Italia è stato ovviamente un evento che ci ha permesso di non solo di pubblicizzare la nostra scuola, ma la nostra sezione italiana, ma anche ci ha permesso di svolgere alcune attività all'interno di Caleidoscopio Italia, di insegnare alcune canzoni ai ragazzini, alcune parole in italiano e quindi è un bellissimo evento che spero che prosegui anche nei prossimi anni e diventi anche sempre più grande, perché per tutte le aziende, per tutte le associazioni italiane è molto importante.